Ho fatto una cagata a chiamare mia Adesso non le rispondo Me la devo un po' tirare con lei Mi è inutile Tutti NPC qua sono Comunque ho chiesto di prendermi anche i campi da tennis Come si rimette dentro R? E? Come si rimette dentro la pistola raga? 3 Buonasera Tutto a posto Ma la pizzeria come sta andando? Ma che è stata amarrata che hai fatta la macchina? Hai messo i led sotto la macchina? I led sotto la macchina? Sì 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 È fornita così questa macchina Non ti piace? No 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 è un po' tamarra con sto led Se ti devo dire la verità Di notte è una figata Buonasera Buonasera Ciao Fina Ciao ci conosciamo Non ci conosciamo Sono Adam Ah Ono Finalmente sei cambiato di capelli Ciao Ciao Roberti Com'è? A posto? Abbiamo fatto le foto porno Qua dentro al locale Sono bellissime Per fare pubblicità Ah e me le fate vedere ragazzi Anzimo Te le mando Grazie mille Ono è una fotografa bravissima Ah non le ha fatte lei le foto porno C'è lei proprio ha scattato? Sì sì Grazie E chi le ha fatte le foto porno scusa? Robertina Ah Robertina le ha fatte le foto porno Aspetta un attimo ragazzi Devo mangiare una cosa Roberti Se mi dai qualcosa da mangiare Mi sto svenendo praticamente Tutto a posto Non scappare però vieni qua Allora Vieni un attimo qua Oh Pino buonasera Buonasera bacia come è Ti a posto? No no Non è niente di ti a posto Sono Bayer maledetto Vieni Ah ma ce n'hai Come Ce n'hai delle altre? Minchia quanto fuma Ce n'hai delle altre? Tre te le ho date Ah a posto a posto a posto a posto Ho fatto Stamattina ho fatto Il succo di banana Ho frullato tutte le banane Sei buonissimo Provalo Ma perché lo fai Non lo fai anche di ananas? Ehm Vabbè Sai che così puoi fare anche le battute ambigue Quelle robe lì no? Ehm Vabbè Hai visto il ragazzo qui? Asimilio a Fedez Ciao Federico Ciao Bello Tu hai avuto problemi con mio fratello Giusto in questi giorni? Io no Al massimo lui ha avuto problemi con me Però non ho capito chi stai parlando Siamo del quartiere lì No 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 Abbiamo chiarito compasso Avete lo sconto pure Del 10% Lo so lo so Mi ha spiegato Poi mi ha detto pure Che qui vi stanno a rompe i coglioni Giusto? Delle persone E' capitato E' capitato Non qua Ma ti hanno già parlato io ieri Quindi Vabbè Se torno a passare Non sono più venuti In che caso mai faccio uno strillo Che siamo lì Va bene Va bene Prenditi il numero Roberti Scusa Io c'ho il numero già di tuo fratello Ce l'ho già Ce l'ho già Ah Vuoi qualcosa da mangiare? Guarda Un 2 e 2 Se volentieri Te lo pago Max Gli diamo un 2 e 2 Che glielo faremo noi al ragazzo? Ma te lo pago Te lo pago Vino Ma va Ma va Figurati Io so che sei una persona seria Ma come? No Ma te lo dico Ci ho provato Mi ha chiesto 400k Per un pompino Porca Tra iasco Io te lo faccio gratis Se vuoi L'ho capito Eh dal Eh ho capito Se c'ho bisogno Te lo dico Wow Proprio Fissade Comunque è molto bello Mi piace Eh lo so Oh Pino Io ho fatto lasciare il numero De quel ragazzo Con cui i pantaloni La diciamo Mi metti A Max Che so I ragazzi che abitano Ma io avevo già conosciuto Il fratello di quello lì Eh Però il numero Ti ha lasciato Il fratello si Eh ok E ma questo è un altro fratello Sempre di quello là Così Se metti in caso Quell'altro dorme C'è questo qua Ah ok 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 Si danno tipo I militari Si danno i turni Bravo Ho capito Eh H24 Pagia ma che tu sappia E' sta architetto Che io ho fatto rifare Tutto il sotto Coso qua Eh È sotto Eh Però non è ancora rifatto Con chi mi devo lamentare Sicuramente penso O lo fanno stanotte Quindi domani dopo le 14 Lo vedi Oppure lo vedi domani sera Dopo le 20 Capito Ti ti lamentavo E' lui l'architetto Che poi si chiama? Eh Ti dico franchino Non sai chi è franchino? Quello che fa le recensioni Dei panini? No Quello no No De Strong dai Lui è quello che fa L'architetto qua Eee Eh Oh non me la fecchera Però Quello che è successo Ieri qua a Pino Che succede? Eh Sono venuti dei ragazzi Che si chiamano Eh Il gruppo di Wayne Ah Mi cercavano te E Walker Eee Mi hanno accoltellato E mi hanno rubato il taser Ah Eh si vede che Eee Davvero Robin Non lo sapevo Sì 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 Vabbè andiamo Pace a poi far qualcosa Per favore Nante questa gente qua Tu che cosa dimmi Ma in teoria Ieri Non lo so Hanno accoltellato Hanno accoltellato Robertina No Pino ieri ho messo Non so se ho fatto bene o giusto Ho messo un annuncio bait Aspetta Mio di nuovo Ho scritto Mi c'era qua Pino Mi fate metà game raga Loro sono arrivati E li ho chiusi dentro Poi ho chiamato Walker E Walker che ha fatto? Eh non lo so Ma ce l'hai il numero di questi qua? Eh no Non ce l'ho Ma Pacianka è andata a prenderli? Ah no sta parlando Scusate ragazzi Pino chi è questa bella ragazza? Eh Ono si chiama È una fotografa Di successo Prova a far finta Di non averla mai conosciuta No 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 domani volevo Che bella che sei Ono Scusa domani cosa vuoi fare? Oh non cagare un attimo Ono ragazzi Eh ragazzi Non fate metagame Dicendomi cosa sta capitando Aurelio Adesso non ci vado apposta Il civico Di cosa? Come si chiama il civico raga? Quello dove Dobbiamo andare A prendere la macchina 3 7 6 Pronto? Robby Aspettami lì Mi raccomando Dove? In pizzeria? In pizzeria In pizzeria Sì sì Sta sistemando le pizze Ma perché me la devo portare raga? Ah è vero Non me la posso intestare Brava Eh però prima Devo vedere Se mi prestano i soldi Ragazzi Oggi sto per regalare Robertina Così ce la prendiamo Perché io Me la devo prendere Robertina Non posso permettermi Di Perder la dipendente Sì Pino Buonasera Sei in città Uè Fratello Tutto un po' Sì 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 Sono in città Mi fa piacere Ascolta Ma li hai recuperati Quei 20.000 Che devo fare il regalo A Robertina Pino Pino A terra Poi ti mandere a scopare Non ti preoccupare No no Sto andando a comprare la macchina A Robertina Ok allora ci vediamo dopo Aspetta ti mando qualcuno No no non ti preoccupare Qua ce la risolviamo da solo A posta A posta A posta Ragazzi dai Dove devi andare a comprare la macchina Non me la fa fare Oh Walker ti volevo chiamare Tonini dove sei Sono dentro io A quale concessionario Cos'hai? Concessionario 376 Devi entrare Dritto Il grosso Sembra Tipo un municipio Oh Walker vieni va ti stavo chiamando Dovete venire tutte e due va Un casino Oh che succede? No sto tutto grippato Sto tutto grippato Oh Tony Sono fino a concessionario Si sono qua Sono qua Sono qua Mi esce dalla macchina Ti mando a parlare con questo qua No sto andando proprio bene Perché non vogliono far vendere a Tonino Le spiga Capito? Ah non sei tu Tonino No no lui è Pasquale Tonino è quello là in macchina Pasquale Non ti capisco che la maschera Non ti ho visto Eh lo so In una fase troppo nervosa Oi Tony Come ti ha posto? Non ti ha posto Guarda si è fatto il giacchetto Eh sì Mi sono messo come Ma stai benissimo questo giacchetto e sta camicetta Lo sai? Eh però gli stanno a rompere i coglioni A tonino Ma perché tu che devi fare? Tiene uno canne mozze Canne mozze ce l'ho Che c'è? Gli andovio il canne mozze Ma voi Ma vi sembra normale Io e te non dobbiamo lavorare Perché un concessionario Di questa maniera Che sembra la casa bianca Tiene Tiene pure la cucina Quello che il bar è dentro Ma come mi fa? Ma io come faccio a campare in questa città? Ah di Io mo mi butto a fare Chiminalità Ah Chiminalità organizzata Tonino 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 Ho trovato un attimo regato Ho trovato una ragazza Che viene a lavorare Oh dammi il numero Dammi il numero Dammi il numero Ma c'è adesso? C'è adesso? Aspettiamo la chiamo Vediamo se c'è Eh venite dentro ragazzi Che compriamo la macchina Robertina Si chiama Sole Aspettiamo Ragazzi venite dentro Che devo comprare la macchina Robertina per favore Ma c'è vino Stiamo un attimo Di business yes Ah ok ok Oh mi raccomando Ti sei allagata la casa? Dobbiamo fare il 110 Come mi sei allagata la casa? Eh no Diciamo quei Starve Quella Chi è? Oh e Ah lei è diciamo Una mia cameriera Lui è Tonino Lavoro in pizzeria Ciao Tonino Buonasera Salve Ciao come va? Lui fa il cantante Se ti vuoi fare una foto È famoso Ah veramente? Facciamoci una foto dai Aspetti signori Che mi sta a chiamare Un attimo Pronto? Ma tu sai dove Si entra di qua? Vieni vieni Come stai tutto a posto? Com'è andato il viaggio? Tutto bene Tutto bene Sono contenta Vieni vieni Che qui è chiuso Com'è chiuso? No Senti Pino Oh Sta a prendere Quelli che gli hai detto Di prendere Eh? La cianca è stata Quelli che gli hai detto Di andare a prendere Ah ok Eeeh C'è il numero di Tonino? O di Pasquale? Il numero di Tonino? Pasquale? Perché con loro Avevano bisogno No no non hai capito Io l'ho chiamato per i soldi E mi ha detto Adesso sto facendo questo servizio Per Tonino Pino Poverino Ciao ragazzi Voglio fare un compliment Complimenti al designer Di questo locale Perché comunque Il pavimento Non è per niente Non riflette per nulla Il pavimento No no Devo dire Ma quello lì Più che altro Il lavoro Delle nostre Non disturba per niente La vista Delle nostre persone Delle polizie Che prende un po' troppo Serialmente È il lavoro Oddio qua è tutto uno squillo Un attimo Eh ma Logan ragazzi Non mi ha risposto Logan Ti volevo parlare di una cosa Scusami un attimo Tonino È privata Vieni qua Vieni Tranquillo Niente Logan Che succede? Praticamente devo fare un favore A una persona Ma costa un sacco di soldi Che tipo di favore? Eh gli devo regalare la macchina Sono venuto qui a chiedere il costo Signore Bisogno? No no è con me Ma stavo chiedendo un favore Scusami Buonasera a tutti Buonasera Buonasera Vieni 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 E quanto costa questo piccolo Piccolo favore? Eh Non casino Veramente non casino Non so come fare Sono in imbarazzo Dimmi dimmi Eh lei vuole la macchina Praticamente La macchina vorrebbe La sultan La sultan Che prezzo è? Ma chi è che la vuole sta macchina? Eh diciamo Allora Io sto facendo il locale No? Eh ma chi la sta regalando? Eh ma ti devo spiegare No? Io diciamo che la colonna portante Del mio locale L'unica persona che ho trovato Che mi dà una mano A tenerla aperto È sta ragazza qua Che tra l'altro Non è neanche una ragazza Ha una storia bruttissima Lei si è dovuta far operare Dove sta? Chi la ragazza? Sì È in pizzeria Quella lavora sempre lì Poverino Ma sì Ma è una poveretta Che guarda Vabbè è giusto che comunque Gli fai questo regalo no? Capito Perché se Se lo faccio sto regalo qua Questa Darà per sempre la vita Per il mio locale E non E non perdo L'unica dipendente che ho Capito Logan? Ho capito Ho capito Chi fa è giusto che Che riceva no? Esatto E ti volevo chiedere se Quanto 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 costa? Qualche prezzo fa sta macchina? Eh se vogliamo andare a sentire Andiamo insieme Ancora non hai chiesto? No Non me lo ricordo sinceramente Andiamo insieme Vai Ciao ciao Erelia Buonanotte Pino Buonanotte Buonanotte Chi è a Buzicozza? No come a Buzicozza È una ragazza che sto frequentando A me piace Ti piace? E ecco qua La signorina lavora qui Pino Ah ciao Salve mi dica No noi eravamo interessati alla macchina Che macchina? La Come si chiama Logan? La Sultan La Sultan Eh Sultan Sulta Quanto? 365 mila L'RS Eh Un bel regalo 365 mila Eh Lo so Logan Vedo c'è la classica Che vuoi fare? Che vuoi fare? A chi merita? A chi merita? A chi merita riceverà no? Eh sì Ma non fanno neanche i prestiti Che gli avevo chiesto un prestito eh Eh no purtroppo Orate Non la rateizzano Niente Ce l'hai in tasca se vuoi Mi sono portati tutti Prendili pure Prendili pure Sono tuoi Eh no vabbè C'è solo questi Poi mi resti senza soldi Se c'è solo questi Oddio C'ho qualcosa in casa locale Vabbè no Se ti servono comunque per Per mangiare Bere E pagare i dipendenti Non è che ti venga a togliere soldi No vabbè Ci mancherebbe Ci mancherebbe Appunto Quando hai a disposizione Un patrimonio più elevato Mi restituisci quello che mi devi dare Ah va bene Ma che ho fretta Non è che Tanto non è che Ci abbiamo 30 anni qua Esatto Esatto Sono d'accordo con te Siamo grandi e vaccinati amico mio E come ti dicevo Questa ragazza Comunque è stata male Dimmi tu di cosa Cioè Se hai delle spese Che ti servono altri soldi Che tipo di spese Devi coprire Allora Robertina vieni qua Al 376 per favore 376 arrivo E che Guarda Oltre la macchina Che devi comprare No adesso Cosa sto facendo praticamente Sto rifacendo La parte giù del negozio Della pizzeria Stai restaurando Sto restaurando Sto restaurando Faccio fare una piccola Diciamo Nessuna attività alla fine Semplicemente faccio pulire Però sto pensando sopra Non so se tu l'hai mai visto C'è una piscina Ah si 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 ho visto Ho visto C'è un bel terrazzo sopra Fabri Menchia Ma vieni Vieni immediatamente Su Call of Duty Fratello Vieni immediatamente Vieni immediatamente E quindi E quindi Eh no non ti conviene Chiedi soldi a qualcuna Che conosci da poco Capisci che potrebbe poi Chiederti di con la forza No? Esatto Qualche sgarro locale Capisci? Che fai Meritai tu? Eh quanto ti serve? Eh mi servirebbe Diciamo Il costo della 360 Mila Ciao Ciao Robby Ciao Ciao Lei è Roberta Eh no ma già l'ho conosciuta Già l'ho conosciuta Ci siamo Una bravissima ragazza Salve agente Salve salve Piacere mio Ma mi conosci Come sta? Eh va bene Tutto bene Tutto bene Come sta andando il lavoro? Beh in pizzeria Abbastanza bene C'è rosa Se ti fai GTI Vieni Te sei devastante L'RP Lei agente come va? Tutto bene Tutto bene Praticamente ognuno Uno mino Non so se E procediamo Procediamo Vieni 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 con noi Sto bene Vieni Vieni Robert Bella La Porsche Madonna Grazie Grazie Quanto costa La Porsche? 90 Sì 90 90 90 90 90 Quanto costa La Porsche? 90 90 90 90 Gulo Ce ne sono due Sposta Stanno bene lì Vieni fratello Dove te li porto? Dove stai? In pizzeria? Dove stai? No Lascili a Tottoi un attimo Che lo faccio venire fuori A chi? A Tottoi A Tottoi Dove stai in pizzeria? Che so Ma dove stai? In pizzeria? Dove devo venire? No Sono al concessionario con uno della polizia che mi stava prestando anche lui dei soldi Che costa 360 mila questa qua Ah ok Benissimo Ma questo non glieli do Oh mamma mia Che è? A chi li dosti i soldi? A Pasquale? No no A Tottoi A Tottoi Ma lo faccio venire in bene 376 Parlo in pizzeria Ah va bene Va bene Va bene Vado in pizzeria Ciao Totto vai a prendere 150 mila euro da Come si chiama? Da Pacianka Sta in pizzeria Ha detto di lasciarli a te Ok Non fare così che mi eccite Ti posso abbracciare Loga? Certo vieni qua Sei veramente un fratello Sei veramente un fratello Ti raccomando eh Non ti metti nei cazzini Vieni Inoltre Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Pino Grazie per la macchina No guarda Devi dire grazie No grazie a Pino Grazie a Pino Grazie ragazzi Se volete Poi una sera ve lo ciuccio Tutte due insieme Non fare per Roberta Per favore Non davanti a Signora A preferenze sul colore? Come se avessi accettato Roberta Rossa come l'amore Cioè dimmi tu se mi sono dovuto trovare Questa è l'unica Che sta sempre al locale Capito? Libera Ahimè il colore Eh sì Prova a far gestire un po' lei la situazione Assumere un'altra gente Capito Capito L'ho fatto perché così Lei Insomma Roberta La voce la voce Sì dimmi Ci rendiamo conto no? No rossa non ce l'ho Eh si può congiungare di bianca o nera? Gialla Gialla? Mighet Arancione? Mighet Se la fa Se la fa verniciare Che colore la facciamo Pino? Dimmi un colore E facciamola Rossa come l'amore Beh fa la rossa come Come la pizza Come la pizza Come la pizza Come la pizza Ci potresti far mettere sopra Il logo della pizzeria Allora Io Pino come vanno gli affari? Tutto a posto? Sì tutto a posto Tutto a posto Tutto a posto Con lo stress come siamo messi Bene Perché c'è qualcosa a rendere? Amore mio dove sei? Alla pizzeria Sotto al In sub C'è la spiaggia E che stai facendo? Sono con gli altri Vieni Ma vieni qua Vieni qua da sola Perché? Vabbè così no? Ah Ok Arrivo Ah 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 Va bene Oh Pronto Pronto Sto cazzo di telefono Pino Sto cazzo di telefono Si è andata movimentatissima stasera Hanno rapito Svaldo Sta capendo niente Pino Pino Ma chi è Svaldo? Che è Svaldo? Ho cugine Donin Chi scaccia una cir Ma chi è che è? Chi? Chi Non lo so chi Siamo in macchina col cantante qua Siamo andando alla ricerca Ah venite qua Venite in pizzeria che sono qua Venitemi a prendere Ok Ciao Ciao Ma chi l'ha rapito? Dei letto a fami Ho capito Allora cercate di trovarlo E poi dopo lo andiamo a prendere Però finché Io comunque ti volevo parlare Un attimo del business Ti spiego il suo fatto della signorina Ragazzi Ma io voglio andare a scopare Ragazzi Voi fate la malavita Tu Eh la malavita Tu vuoi scopare Ti vengono a cortellare te Ma chi si chi è andata sta macchina Ma fatti La signorina Il marito della signorina Vecino a me Ha detto Ma chi vuol che era? No Jayce Ha detto Se tu farò scemo con lei E cose non stanno bene Perché lui mi ha chiesto Ha detto Senti Antonino Ma non è che quel Pino Ci prova con la mia ragazza Ma chi è la sua ragazza? Eh ho bianca Ho quella Ho bianca Ho quella Vino ti stai chiamando Bianca Se non è la Bianca E' la Maria Scusami Pino Ma che cazzo ne so io Sei colore Volker Corruto due volte Quindi Ah tu le chiamate No io non l'ho chiamata Compa Sì sì Eh sì 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 Bianca Amica stretta Ah Hai capito Cioè è andata Con questo qua E' andata Come andata Come andate Non me lo dicismo Ah buona Nino d'angelo Tutto è bene Ah che me fa Ma che vuole No Si è decisivo Caccia un'arma adesso Con capito Abbiamo fatto un giro In città Io ho capito Il business Che vorrei fare Io per fare qualcosa Di donna Sei geloso Oh Ma ne sai che fa Pino ma si è accavallato Oh si è accavallato Spara 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 Pino Stai fermo Stai fermo Stai fermo che ti scatta come un cane Oh a meno Stai fermo Stai fermo che ti scatta come un cane Metti in giro Metti in giro Che ti sparo Metti in giro Che ti sparo Guarda che te la dà pure a te Ci dai una cosa di 50 euro Metti di in ginocchio E chiedimi scusi Metti di in ginocchio 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 Pino Mamma mia dove te pallo Pino Ma dove te pallo Ma dove te pallo Ma è tutto fatto Mamma mia La cina Mamma mia Colpì Scappiamo 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 Ma questo è un bambino Ma si è un bel pino Andiamo nella macchina La macchina La macchina Scappate Scappate Non si apre Non si apre Non si apre Ma noi Ma perché Ma che sensazioni puoi Quando ci palle Tutto a posto Ragazzi Non c'è niente Ho visto Ho visto le puntate Non c'è niente Non c'è niente Che devo chiamare la polizia No Vieni Portalo dentro Portalo dentro Portalo dentro Io lo posso rianimare Portalo Portalo qua Guarda che tu Hai rianimato Metti giù Metti giù Come faccio a prenderlo Come fai a rianimarlo Prova tipo Muscoletto T slash Rianima 2294 2294 Non c'è niente Ma che combinato Tutta coppata Ma mi controlla se c'è i soldi Quisto Non me l'aria Stai niente i soldi Aspetta un attimo Ragazzi ma scusate Portateli Lo portiamo in ospedale E che gli diciamo All'ospedale Pino Che gli diciamo Pino vieni qua Ascolta Che la gran puttana Vieni qua Qui Dici Avevamo un cantante No ma l'ho fatto Anto 22 94 Non so Senza Se non funziona Con lo spazio Fai senza spazio Vai Oh ma non possiamo portare In ospedale Questo qua Portatelo dentro Portatelo dentro Portatelo dentro Tutto Non lascialo qua fuori Mettilo nello sgabuzzino Segui a me Premi Premi muscoli tutti Pat Ciao Buonasera Ho visto la chiamata Ma voglio fare fare Dalla Oddio Che è successo Eh come faccio No Non c'è più Oh F8 Sì Rianima Spazio Il suo numero Che è il 2294 2294 Che fai? Andiamo a mangiare Mia Qual è il numero? 2294 Mi sa che lui non può 2294 Oh Hai vista Ciao Leva lopino Levalo il tuo E mi Bianca C'è qualcuno che mi può dar da mangiare Per favore Bianca Stronzo Stronzo No ma aspetta Lo vede nervosito Signore buona serata Chi cazzo è? Ma quello viene così nudo qua Ma qua non c'è neanche Un po' di ritegno No No Pino Mi sembra eccessivo No Pino Guarda Canta sta canzone Che ti scanno come un cane Canta sta canzone Che ti scanno come un cane Cantami Beautiful Think Aiuto Bianca Bianca